ciao a tutti oggi prepareremo la crema di pomodoro basilico e mandorle il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa gli ingredienti sono pomodori piccadilli mandorle pelate mandorle con la buccia pinoli basilico parmigiano pecorino olio evo sale e pepe diamo il via alla ricetta mettere nel boccale le mandorle pelate le mandorle con la buccia e pinoli ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il pecorino il parmigiano ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10 aggiungere il basilico il pomodoro il sale il pepe e l'olio ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 8 trasferire in barattoli di vetro crema di pomodoro basilico e mandorle ideale per farcire i crostini o condire la pasta si conserva in frigo coperto con un filo d'olio per una settimana grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti